Musica Ancora in aumento i ricoveri nelle marche positivi al coronavirus, più di 800 contagi e 12 decessi nelle ultime 24 ore. La pandemia ha aumentato i disturbi del sonno di circa il 40%. Su Fano TV parla la presidente dell'Eurodapp Eleonora Iacobelli che illustra i rimedi naturali e comportamenti da seguire, ma l'esperta mette in allerta attenzione ad alcuni farmaci. Stretta contro gli assembramenti e controlli mirati nel periodo di Pasqualo, chiede il Viminale in una circolare inviata ai prefetti, più pattuglie sulle strade anche in provincia di Pesero Urbino. Assembramenti e aumento di contagio a Vallefoglia, il sindaco Ucchielli firma l'ordinanza di chiusura di parti e giardini pubblici. Cittadini sentinelle pronti alle segnalazioni a Pesero e i volontari di quartiere scendono in campo per i controlli anti-Covid e le chiamate alle forze dell'ordine. Arrestato dai carabinieri di Fano, uno spacciatore albanese a Marotta, la Guardia di Finanza blocca un'auto cisterna che trasportava gasolio oltre il limite consentito, denunciati il conducente e il titolare dell'impresa. Approvato dal comune di Mondolfo il progetto della pista ciclo pedonale che collegherà Centocruci a San Gervasio, al via i lavori, entro la fine dell'anno. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura all'emergenza sanitaria. Preoccupano ancora i contagi e i ricoveri per Covid-19. Il Viminale, anche in vista delle festività pasquali, ha illustrato il nuovo piano per frenare la pandemia e in una circolare inviata ai prefetti si chiedono più controlli e maggiore attenzione al rischio assembramenti. I controlli delle forze dell'ordine vanno svolti con accuratezza e si devono concentrare nelle aree urbane più sensibili potenzialmente interessate da fenomeni di assembramento, specialmente in corrispondenza delle giornate festive e prefestive. Lo chiede il Viminale in una circolare inviata ai prefetti che illustra le regole introdotte dall'ultimo decreto legge in vigore fino al prossimo 6 aprile. Il giro di vite è stato deciso per contrastare la diffusione del contagio e contribuire alla tenuta del sistema sanitario. Nel periodo pasquale poi serviranno controlli mirati lungo le strade di scorrimento extraurbano interessate da flussi di traffico più intensi. E ancora pattuglie posti di blocco nelle stazioni, negli aeroporti e negli snodi principali della mobilità urbana. I controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani saranno intensificati anche nella nostra regione. Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia si tingerà di rosso e l'autocertificazione sarà sempre necessaria. Gli spostamenti anche all'interno del proprio comune saranno consentiti solo per motivi di salute, lavoro o necessità, dunque solo per le comprovate esigenze. Ma è stata conservata la deroga che era in vigore durante le feste di Natale. Una sola volta al giorno, dalle 5 alle 22, possono muoversi due adulti portando con sé figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Potranno andare verso una sola abitazione privata a far visita ad amici o parenti, purché all'interno della regione. In ogni caso, sia in zona arancione che in quella rossa, per coloro che viaggiano in auto con persone non conviventi, al fine di garantire il distanziamento, è ammessa la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri, al massimo, per ogni fila di sedili successiva. Tutti gli occupanti della vettura devono necessariamente indossare la mascherina. Controlli serrati dalla costa all'introterra sono previsti anche in provincia di Pesero Urbino. Le strade maggiormente attenzionate saranno la Statale Adriatica, la 73 bis di Boccatrabaria e la strada provinciale 424 cesanense. I cittadini che si spostano senza un giustificato motivo rischiano una multa da 400 a 1.000 euro. Se pagano però entro 5 giorni, l'importo della sanzione verrà ridotto del 30%. Scatta la denuncia invece se nell'autocertificazione si riportano dichiarazioni non vere perché la pattuglia può compiere ogni verifica. Un esempio, vengo denunciato se scrivo nel modulo che sto andando a lavorare e poi risulta che quel giorno sono in ferie. Il reato contestato sarà quello di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Il bilancio regionale dei decessi legati al coronavirus si aggrava di 12 vittime. Nelle ultime 24 ore sono morti 6 uomini e 6 donne di età compresa tra i 61 e i 94 anni. Il 61enne è un uomo che risiedeva a Cantiano. I positivi riscontrati nell'ultima giornata su oltre 7.000 tamponi sono 856. Più di un terzo sono in provincia di Ancona che è seguita da Macerata, Fermo, Pesaro, Urbino e Ascoli Piceno. Negli ospedali si registra un altro aumento di ricoveri più 12 rispetto a ieri. Rimane stabile il numero di pazienti in terapia intensiva, che sono 133, mentre aumentano i degenti in semi-intensiva, ad oggi 226. E per evitare gli assembramenti che si sono verificati a Vallefoglia, il sindaco Palmiro Ucchielli ha firmato un'ordinanza di chiusura di parchi e giardini pubblici. Il provvedimento sarà valido fino alla mezzanotte del 24 marzo prossimo. Negli ultimi giorni, ha spiegato il sindaco, si è evidenziata una crescita costante del numero dei contagi. Per questo abbiamo ritenuto opportuno intervenire per evitare ogni possibile occasione di assembramento. Per uscire quanto prima dalla pandemia, il consiglio migliore che mi sento di dare ai cittadini, a De Tuchielli, è quello di restare a casa il più possibile e di rispettare scrupolosamente tutte le regole attualmente in vigore. L'epidemia ha cambiato le nostre abitudini, ma anche ha aumentato purtroppo i casi di insonnia. Oggi ne abbiamo parlato con Eleonora Iacobelli, presidente dell'Associazione Europea Disturbi d'Attacchi di Panico. L'esperta però mette anche in allerta attenzione ad alcuni farmaci, ha detto perché provocano dipendenza ed effetti collaterali. Tra lavoro da casa e didattica a distanza, l'emergenza sanitaria ha stravolto il nostro equilibrio. Il Covid-19 ci ha cambiato la routine e in molti casi ha aumentato gli impegni e lo stress. Se da un lato lo smart working può essere ritenuto utile e funzionale, dall'altro la mancata interazione con i colleghi, la continua reperibilità e le distrazioni per le necessità familiari non aiutano a mantenere la giusta concentrazione. Ma ad aggiungersi a questi problemi c'è anche quello dell'insonnia da non sottovalutare perché può compromettere le normali abitudini di vita causando un senso di malessere generale. Infatti, a causa della pandemia, si è verificato un aumento dei disturbi del sonno di circa il 40%. Ad affermarlo è Eleonora Iacobelli, responsabile di Bioequilibrium e presidente dell'Eurodap, l'associazione europea disturbi di attacchi di panico. Sicuramente c'è stato un notevole aumento dei casi regati a problemi del sonno in quest'ultimo anno e la pandemia ha sicuramente inciso in questo poiché ha completamente disequilibrato tutti i nostri ritmi. Tutte le cose che noi facevamo generalmente, come uscire, andare al lavoro, mettere la sveglia, si sono un attimino modificate. Si stima che nel nostro paese ci siano circa 12.000 persone che soffrono di insonnia e da una ricerca condotta da Bioequilibrium su quasi 843 persone è emerso che l'84% ritiene che la qualità del proprio sonno incida fortemente sul livello energetico giornaliero. Inoltre, 75% ha riferito di avere difficoltà a rilassarsi e il 63% di dormire meno di 7 ore a notte. Infatti, la maggior parte delle persone poi riferisce di avere problemi di concentrazione, di essere molto stanca, di bere più caffè e anche l'attenzione è un problema e quindi è chiaro che il sonno crea tutta una serie di problematiche anche sulla nostra performance. Ci sono delle soluzioni? Che cosa si può fare? Cercare di mantenere i nostri ritmi circadiani più regolari possibile è sicuramente un'ottima idea. però è chiaro che anche cercare di non fare attività fisica troppo vicino alle ore di andare a dormire o cercare di non mangiare cibi o ricchi di grasso o degli eccitanti evitare la sigaretta prima di andare a dormire potrebbe essere un'ottima idea perché a differenza di ciò che si pensa la nicotina in realtà è un eccitante per cui è chiaro che incide sul nostro ritmo del sonno. Oltre a questi comportamenti virtuosi spiega la psicoterapeuta ci sono dei rimedi naturali come ad esempio gli integratori invece sui farmaci utilizzati per l'insonnia bisogna fare attenzione. Mediamente, non tutti ovviamente però mediamente sono degli ipnotici per cui creano grande dipendenza e abbastanza effetti collaterali inoltre se interrotti repentinamente senza l'osservazione di un medico possono creare l'effetto contrario per cui se prima ci potevano aiutare a dormire se li interrompiamo di botto diciamo che possono creare invece insonnia. Comunque è sempre consigliabile rivolgersi a un esperto? Assolutamente sì perché non è un problema che va sottovalutato e appunto proprio perché a lungo andare incide su tutta la nostra vita perché il sonno non serve per riposare il corpo almeno non in prima battuta ma serve per riposare il nostro cervello. E vi ricordiamo che in attesa della pronuncia dell'EMA sul vaccino AstraZeneca sono state annullate le sedute di vaccinazione sia al Codma di Fano che al centro Monarli a Pesaro il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 fa sapere che le prenotazioni saranno automaticamente rielaborate e comunicate agli interessati senza la necessità di una nuova prenotazione. Biancani e Vitri sui vaccini ai disabili soffrono di memoria selettiva ricordano solo quello che gli fa comodo così i consiglieri regionali della centrodestra eletti in provincia di Pesaro Urbino che rispondono a quanto affermato nella giornata di ieri. È stato il loro PD con il governo Conte e si legge in una nota a fissare le priorità che escludono parte dei disabili dalla prima fase di vaccinazione. Biancani e Vitri se la smettano di speculare politicamente sulla pandemia alimentando una disinformazione che accresce il disorientamento dei cittadini. Attribuire le criticità della campagna vaccinale alla Regione continuano i consiglieri è un insulto non solo al sistema sanitario e alle istituzioni che lavorano senza sosta per far fronte all'epidemia ma è anche un insulto all'intelligenza dei marchigiani. Ed ora torniamo a parlare dei controlli anti-covid perché a Pesaro sono scesi in campo anche i cittadini sentinelle. Si tratta di alcuni volontari di quartiere che in caso di assembramenti allertano le forze dell'ordine. Li ha intervistati per noi Angelica Panzieri. Dopo l'ordinanza emessa dal comune di Pesaro per rafforzare i controlli nei parchi della città anche i volontari di quartiere hanno potuto svolgere il loro ruolo ricordando ai cittadini cosa è consentito fare all'interno del parco. Hanno girato per i parchi della città muniti di pettorina per ricordare ai cittadini cosa è consentito fare all'interno delle aree verdi stesse. Sono i volontari dei quartieri di Pesaro che sposando l'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale in accordo con la prefettura per rafforzare i controlli nei parchi cittadini si sono messi subito a disposizione della comunità. Così lo scorso weekend il primo in zona rossa sono partiti per portare il loro contributo nei principali parchi cittadini volontari che non si sostituiranno alle forze dell'ordine ma che offrono un servizio ulteriore per fornire ai cittadini indicazioni sui comportamenti da seguire all'interno dei parchi. L'obiettivo si legge nell'ordinanza è verificare la riduzione degli spostamenti ed evitare situazioni di assembramento. Nel quartiere 4 non ci sono stati problemi di nessun tipo c'è stato un uso responsabile dei parchi da parte dei cittadini per cui come volontari ci siamo ritenuti ampiamente soddisfatti e speriamo si possa rifare questa esperienza in futuro. Qual è il vostro ruolo? Di fatto quando incontrate i cittadini che cosa dovete fare? Dobbiamo semplicemente porre l'attenzione sulla sicurezza sul distanziamento sull'utilizzo corretto delle mascherine e fare un po' quello che ogni buon cittadino dovrebbe fare quando va a fare una passeggiata in giro per il quartiere. è stato un ruolo chiaramente non di sorveglianza non siamo poliziotti è stato un ruolo di cittadinanza attiva e invece è stato un ruolo molto importante sia per mantenere la sicurezza nei parchi sia per dare una mano anche ai cittadini a rinfrescare un po' quali sono le normative e soprattutto tenere aperti i parchi perché sono una risorsa fondamentale. Il primo weekend è andato benissimo primo perché l'entusiasmo dei volontari quindi questa cosa già si parte con una voglia diversa con una voglia di essere partecipi per il quartiere in più essere sicuri perché noi eravamo coperti da Hauser che ci copre in tutto quello che è la sicurezza quello che è l'abbigliamento e ci dà la forza di poter dire le cose in modo regolare e reale quindi massima concretezza. I cittadini hanno partecipato sono stati entusiasti perché si sono resi conto di essere supportati da un comune vicino perché possiamo essere vicini di casa e quindi felici e poi è stato tutto perfetto. I parchi interessati dall'ordinanza sono quelli di grande e media dimensione Miralfiore Scarpellini Trulla Villa Molaroni Viale Trieste Zara Piazzale della Libertà Maestri del Lavoro poi ancora quelli di quartiere Villa Fastigi Villa San Martino Vismara Baden Powell in zona Pentagono e Celletta E anche il comune di Fano aderisce alla giornata mondiale per le vittime del covid con una cerimonia che si svolgerà domani giovedì 18 marzo alle 10.30 al Parco Urbano Polverari in Via della Colonna L'evento che non potrà essere seguito in presenza verrà trasmesso in diretta sul canale 17 di Fano TV La scelta del parco urbano fa sapere il comune è stata fatta poiché nella giornata di domani verrà piantato un nuovo albero in memoria di coloro che hanno perso la vita a causa della pandemia un atto simbolico che si concretizzerà nel prossimo ottobre quando nell'aria verrà piantato un albero per ciascuna vittima del virus dando vita a un nuovo bosco per celebrare la memoria delle persone decedute all'iniziativa saranno presenti il sindaco Massimo Seri e il vescovo Armando Trasarti il comune di Pesaro invece torna a distribuire alla città tramite i buoni spesa ulteriori 400 mila euro si tratta della quarta distribuzione che l'amministrazione predispone in meno di un anno le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del 24 marzo fino alle ore 13 del 29 marzo le famiglie pesaresi che ne avranno diritto potranno spendere i voucher in beni di prima necessità entro il mese di maggio ma tutte le informazioni su date moduli e domande le troverete nel nostro sito occhioalanotizia.it e ancora cronaca due persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Fano per trasporto illecito di gasolio la guardia di finanza di Pesaro Urbino dopo il sequestro di 500 litri di gasolio nell'aprile dello scorso anno ha intensificato le attività volta il contrasto dei traffici illeciti e nell'ambito di un controllo eseguito lungo la strada cesanense a Marotta di Mondolfo ha sequestrato circa 150 litri di gasolio per riscaldamento l'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Fano che hanno fermato un'autocisterna guidata dal dipendente di una ditta anconetana che opera nel settore petrolifero durante gli accertamenti è emerso che il mezzo conteneva un quantitativo di carburante eccedente rispetto a quanto dichiarato in particolare l'autista ha esibito i documenti di accompagnamento semplificato previsti dalla legge per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa che ne avrebbero provato la legittima provenienza ma le successive operazioni di pesatura della cisterna hanno rilevato che il gasolio era in realtà in quantità superiori infatti il mezzo trasportava 150 litri di prodotto in più che come previsto dalle normative di settore è stato considerato di illecita provenienza quindi è stato sottoposto a sequestro probatorio per il reato di contrabbando ora sono in corso ulteriori indagini per capire se si tratti di un caso isolato e quale fosse la provenienza l'autotrasportatore e il titolare dell'impresa sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Pesaro e rischiano la reclusione da sei mesi a tre anni oltre a una multa di importo fino a dieci volte il valore dell'imposta evasa se non dimostrano la legittima provenienza del prodotto energetico trasportato in eccedenza e i carabinieri di Fano invece hanno dato esecuzione una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per indagini preliminari nei confronti di un albanese di 38 anni e residente a Rimini l'uomo è ritenuto responsabile di ripetuti episodi di spaccio di sostanza stupefacente a favore di un 39enne di Mondolfo quest'ultimo era stato arrestato lo scorso dicembre proprio a seguito di una cessione di droga gli spacci avvenivano a Fano Mondolfo e nel circondario di Pesaro una sorta di attività lavorativa portata avanti sia nelle Marche che in Romagna dagli accertamenti eseguiti tramite l'Interpol e le autorità albanesi è emerso che il 38enne era stato già espulso dal territorio nazionale nel 2015 e che utilizzasse delle nuove generalità al fine di far perdere le proprie tracce inoltre a suo carico era già pendente sotto il nome utilizzato in precedenza un ordine di carcerazione ora l'albanese dovrà rispondere di cessioni aggravate continuata di sostanza stupefacente in particolare di cocaina e marijuana ed ora ci spostiamo nel comune di Mondolfo dove è stato approvato il progetto della pista ciclopedonale che collegherà Centocroci a San Gervasio i lavori inizieranno entro la fine dell'anno tutti i particolari nel servizio di Filippo Pucci nel comune di Mondolfo è stato approvato nella seduta del consiglio comunale del 16 marzo il nuovo progetto della pista ciclopedonale che permetterà ai residenti di Ponterio e di Via Beato Angelico di raggiungere in sicurezza il quartiere di Centocroci il percorso si estenderà per circa 500 metri e sarà corredato di un impianto di illuminazione a led un'altra importante opera pubblica dell'amministrazione comunale a favore della mobilità sostenibile e del rispetto per l'ambiente quindi prosegue l'azione dell'amministrazione comunale di creare una rete articolata di percorsi ciclopedonali che collegano tutti i quartieri della città nella direzione della mobilità sostenibile e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini il progetto consiste in un percorso che ha una larghezza di 2 metri e mezzo la lunghezza del tratto è di circa 500 metri e il costo totale del progetto con espropri progettazione e realizzazione dei lavori è di 200 mila euro in parte finanziati con risorse del bilancio comunale in parte con risorse ottenute dal Ministero dell'Ambiente e subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi trasmetteremo l'intervista integrale che abbiamo realizzato questa mattina a Eleonora Iacobelli sui disturbi del sonno in tempi di pandemia grazie per averci seguito l'informazione torna domani mattina alle 7 con il nostro direttore Marco Ferri e la lettura dei quotidiani arrivederci a Eleonora Iacobelli grazie a tutti